Fino al 29 luglio a Torre Canavese nella Pinacoteca Comunale Raisa Gorbaciova è visitabile la mostra Il Sangue e la Luce, ciclo di opere pittoriche dedicato al dramma umano e religioso della popolazione tibetana dell'artista piemontese Mario Tonino. La rassegna è realizzata in collaborazione con l'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale.